Una buona giornata e bentornati a Weekend Sabato, come sempre la prima parte di questa edizione dedicata alle notizie della notte e poi lo spazio agli approfondimenti. Cominciamo con il Festival di Sanremo che ieri sera, poco prima della conclusione della quarta serata, ha visto un colpo di scena clamoroso, la squalifica di Morgan e Bug. Perché è successo ciò? Perché a esibizione iniziata del brano sincero, Bug ha lasciato la Caromess in seguito alla decisione di Morgan di cambiare il testo della canzone. Fortunatamente è intervenuto Fiorello che ha cercato quantomeno di dipanare la questione. Non rientrando in gara, il direttore artistico, nonché conduttore del Festival Amadeus, ha deciso che i due andavano squalificati. Come da regolamento li considero due grandi artisti e la loro è una bellissima canzone. E spiace che non siano qui a cantare a detto. Adesso occupiamoci della cronaca perché la Corte di Cassazione ha disposto l'appello a Miss per la morte di Marco Vannini, il giovane ucciso da un colpo di pistola, nel 2015 a Ladispoli. Nelle motivazioni la Cassazione dice che il ragazzo non è morto per un colpo di ama da fuoco, ma è morto per un ritardo di 110 minuti nei soccorsi da parte della famiglia Ciontoli. Così a questo punto i familiari del ragazzo hanno esultato e dicendo che giustizia è stata fatta e adesso si ricorrerà ad un processo abiss per rimodulare tutte le accuse che sono state fatte. Occupiamoci adesso di Dama perché nei primi giorni di febbraio si è svolto un importante appuntamento ad Ordone, il campionato provinciale di Dama italiana che ha visto protagonista e vincitore Sergio Scarpetta, il campione dammista di origini cerignolane che ancora una volta ha fatto valere la sua forza e la sua emozione nel giocare in questo sport. Tra l'altro proprio a ottobre dell'anno appena passato ha vinto anche alle isole Barbados nella sfida contro il campione del mondo di Dama inglese Ron King e si è riconfermato per la seconda volta consecutiva. E adesso gli approfondimenti del nostro giornale. Cominciamo con il bellissimo spettacolo avvenuto ieri sera al Roma Teatro Cinema è l'isola magica Shakespeare in a Dream realizzato da Elisa Barrucchieri. È stato uno spettacolo intenso ed emozionante. Noi eravamo lì, ecco il servizio.